Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Le Scandalose di Patrizia Carrano. Dopo averla vista a Pietroburgo, Anton Chekhov scrive di lei. Ho aspettato per il primo e il secondo atto di vederla finalmente recitare. Mi sono reso conto, quando stava per finire lo spettacolo, che lei non avrebbe recitato mai. Lei era se stessa sulla scena. Oppure lei e il personaggio erano la stessa cosa. Con quella sua voce senza toni alti, con quelle sue magnifiche braccia che muoveva così stupendamente, che vivevano con lei. L'attrice che ha incantato Chekhov è Eleonora Duse, che a Pietroburgo recita, con il proprio stile inconfondibile, uno dei suoi cavalli di battaglia, La Porta Chiusa di Marco Praga. Uno stile, quello di Eleonora, che la connota, la distingue fin da subito, esenziale, talvolta nevrotico, comunque assolutamente modernissimo. Agli inizi del Novecento la Duse recita senza aggrapparsi alle tende, senza gesti plateali, senza alcuna ridondanza. Piuttosto, e per l'epoca è una novità assoluta, che prima non si era mai vista, magari si rattrappisce dentro una poltrona, parlando con la testa rivolta verso il basso. Oppure, e in una scena di grande tensione, riga con una chiave uno stipo, con fare ossessivo. O ancora si ferma immobile, gli occhi fissi nel vuoto, l'aria impaziente, quasi annoiata. Nel 1897 la grande attrice Adelaide Ristori scrive una lettera in cui presenta Eleonora Duse al pubblico parigino, soffermandosi proprio sulla modernità del suo fare teatro, soprattutto rispetto alla tradizione ottocentesca di cui la stessa Ristori era una delle esponenti più conosciute e più celebrate. Con la sua voce sottile, a volte leggermente stridente, ha saputo formarsi una recitazione sua propria, ora rapidissima, ora pianissima, che non consente nessuno scoppio di voce e che dissimula la concitazione dell'anima. È magra, è sempre la Ristori che scrive, piuttosto una fosse magra, come dicono in Francia. Ma ciò, nelle scene d'amore, le consente una seduzione, un abbandono della persona, un languore delle membra, un meraviglioso smarrimento dei sensi. Forse il medesimo nevrotico abbandono che Eleonora Duse prova o ha provato per tanta parte della sua vita di donna. Una vita travagliata, sofferta e per l'epoca assolutamente scandalosa. Eleonora è attrice, è donna ed è sola, nonostante i molti amori e le molte relazioni. La prima esperienza sentimentale è delle più sfortunate, mentre a Napoli, dove l'ha portata la sua prima vera scrittura importante al Teatro dei Fiorentini, conosce e ama un celebre giornalista napoletano, Martino Caffiero, che è il direttore del Corriere del Mattino, e ne resta incinta. Lui però rifiuta di sposarla, anzi addirittura la lascia, mettendole in mano i soldi per pagare l'ospedale. Il bambino nasce a Marina di Pisa e muore dopo pochi giorni. A Matilde Serau, che diventerà una sua grande amica e che le è vicina in quella terribile circostanza, Eleonora scrive, a quell'età non si ama tanto un uomo, ma si ama soprattutto l'amore. Se io mi volgo indietro, che cosa rimane di lui? Nulla. E invece della mia esperienza rimane tutto. Eleonora forse non lo sa, ma il suo personaggio di donna sola, inquieta, malamata, nonostante le sue grandi qualità, si sta già precisando e pensare che ha soltanto vent'anni. Quando, ormai anziana, si volta indietro, è lei stessa ad ammettere, io fui e sono sola, sola ad essermi amica o nemica. Tutto il resto è leggenda. Eleonora Duse è figlia d'arte. Suo nonno Luigi ha fatto una carriera modesta recitando il repertorio di Goltoni. Suo padre Alessandro è un primattore, un piccolo impresario di una compagnia di giro. Sua madre Angelica non nasce attrice, ma piuttosto entra in arte per seguire il marito. E così Eleonora nasce in un albergo, in un albergo di Vigevano che si chiama Il Cannon d'Oro. È il 3 ottobre del 1858. Eleonora debutta a cinque anni nei Miserabili, nella parte della piccola cosetta, e una leggenda racconta che per farla piangere, di nascosto in scena, le pizzicavano i polpacci. A 12 anni sostituisce la madre malata, vestendo i panni della Francesca da Rimini. A 15, all'Arena di Verona, è già una Giulietta assolutamente memorabile. A 22 anni è capo comico e regista dei lavori che sceglie e interprete. A guardarla bene ha un fisico smunto, però ha un carattere di ferro e una passione assolutamente feroce per il lavoro, insieme a una grande voglia di vivere. Dopo l'epilogo doloroso della sua storia d'amore con Caffiero, Eleonora si sposa con un attore, di nome Tebaldo Checchi, che è in qualche modo il classico marito della diva, gentile, molto attento alla carriera della consorte, accorto nel gestire i rapporti con il pubblico e con la stampa. Eleonora, che è una donna di grande intelligenza, comprende in fretta e molto in anticipo sui suoi tempi, che il teatro non è soltanto istinto, ma è soprattutto cultura, preparazione. E dunque, per tutta la vita, Eleonora Duse si circonterà di intellettuali, di scrittori, di poeti, di musicisti, di autori teatrali, e coltiverà con grande attenzione i rapporti con i giornalisti e con la stampa. Dall'unione con Checchi nasce una bambina, Enrichetta, però quel matrimonio ha vita breve. Durante una tournée in Sud America, Eleonora, che vuole consolarsi dell'improvvisa scomparsa di un suo giovane amante, bello di nome Arturo Diotti, inizia una relazione con il comprimario Salvo Andò. Intanto, suo marito Tebaldo tenta di consolarsi con una giovanissima attrice, che si chiama Irma Grammatica, e Eleonora, che in Scenò non fa mai niente per caso, una sera, mentre sta recitando La principessa di Bagdad, di Alessandro di Marfiglio, si slaccia il busto e mostra il seno nudo. Lo sgomento e i pettegolezzi si sprecano, la giovane Grammatica tenta addirittura un maldestro suicidio ingozzandosi di frutta, e due giorni dopo il matrimonio di Eleonora Duse si chiude. Checchi resterà in Sud America e la figlia, Enrichetta, viene destinata a un costosissimo collegio inglese. È il 1885 e Eleonora ha 27 anni, già diventata famosa, Eleonora Duse si prepara a diventare il grande bandito della scena, come l'hanno definita i suoi biografi più moderni, la cui tesi è che non si è attori perché si ama il teatro, si è attori, grandi attori, piuttosto perché lo si odia, come l'hanno odiato Carmelo Bene, Lorenzo Olivier, come l'ha odiato Eleonora Duse. Scrive infatti Mirella Scino in un libro che si intitola proprio Il teatro di Eleonora Duse. Liquidato il marito, liquidato il capocomico, la Duse diventa lei stessa il più grande capocomico italiano, il nome Duse, la principessa invisibile di cui nessuno conosce le decisioni in anticipo e che è sempre pronta a dettare nuove leggi, le sue. Benché nella vita si vesta di gonne e di bluse molto semplici, di solito grigi, e si copra con degli scialletti assolutamente insignificanti, Eleonora dopo aver visto Sara Bernard decide di farsi fare dei vestiti degni del suo rango e li sceglie da Fortuny e da Ward. Il legame con Andò, che lei definisce un bel uomo però un perfetto cretino, è ormai finito e Eleonora ha voglia di qualcos'altro, di un interlocutore che sappia stimolare la sua mente, che sappia tenerle testa. È allora, nel 1887, che Eleonora incontra un uomo schivo, solitario, non particolarmente passionale, un borghese, da tempo legato a un amante che non intende lasciare, e molto restio ad allontanarsi dal proprio studio al centro di Milano. Un uomo che lei vuole per sé e che si chiama Arrigo Boito. A unire la Duse e Boito, lui sempre fisso a Milano nel suo studio e lei in giro per la compagnia, concorrono circa un migliaio di lettere che sigillano ognuno dei loro gesti, ognuna delle loro giornate. A Boito Eleonora scrive, rievocando il loro primo palpito. Vi ricordate? Una delle prime sere, vervierei nel palco con voi, voi veniste da me nell'intervallo. Ci sorridevamo, niente di più, avevate dei fiori all'occhiello e nell'andarvene, le vostre dieci dita si sono intarsiate l'una con l'altra. Quando comincia la relazione con la Duse, nel 1887, Boito ha 45 anni e ha da poco finito il libretto dell'Otello, Eleonora invece ne ha soltanto 27. In verità i due sono molto, molto diversi e quando poi si lasciano, con dolore, si inviano dei biglietti che oggi farebbero sorridere. Alludendo alla loro rottura, alla fine della loro storia, Eleonora scrive, è come la morte, tale e quale. E Boito le risponde, è più che la morte, perché era più che la vita. Eppure per tutta la vita continuano a stimarsi e a volersi bene e ogni tanto continuano anche a scriversi. Eleonora gli scriverà anche nel giugno del 1918, prima, poco prima, che Boito manchi. Chiusa la sua vicenda con Boito, Eleonora si sente in qualche modo sentimentalmente finita. Ama il suo lavoro, in verità lei ha la mistica del lavoro, ma nello stesso tempo lo odia. Del suo impegno teatrale confessa, bisogna recitare per giorni e per mesi delle parti odiose, per ottenere alla fine il premio di qualche attimo di respiro in una parte che si sente e che si ama, per poi ricadere di nuovo nella dura necessità. È in questa condizione di spirito che Eleonora incontra Gabriele, Gabriele D'Annunzio, l'attrice applaudita in tutto il mondo, che in Italia viene addirittura chiamata la Divina, ha 38 anni. D'Annunzio invece ne ha 33. Ha una moglie, ha tre figli, ha un amante ufficiale, ha un'altra figlia e una fama, peraltro meritatissima, di assoluto sciupa femmine, di grande donnaiolo. In un'Italia in cui le donne che lavorano vengono pagate mediamente un terzo degli uomini e sono di solito addette a incombenze massacranti e servili, Eleonora è una donna a parte, perché è una donna ricca e indipendente, una donna che ha la forza di essere se stessa. Non è bella, però orgogliosamente rifiuta ogni artificio, è irrequieta e non vuole sentir consigli, non è esibizionista, sembra fragile, ma al dunque ha una tempra fortissima. Peccato che a distruggerla, a minarla, arrivi proprio lui, il vade. Due foto documentano l'erosione, la parola è erosione, prodotta su di lei da quello che diventerà il futuro eroe di fiume. A scattarle è sempre la stessa persona, un amico fedele di Eleonora, il conte Giuseppe Primoli, che è un appassionato di fotografia che nel corso della loro lunghissima amicizia le punta addosso l'obiettivo migliaia e migliaia di volte. La prima foto è del 1894. Eleonora, che è già innamorata, però non si è ancora perduta nel suo masochismo. Siede su una poltrona di vimini e legge con aria serena. La seconda fotografia è di otto anni dopo, del 1902. Ormai la storia con Danunzio allo stremo, il sommo poeta sbuffa al solo vederla e Primoli fotografa la duse in piedi su una gondola, avvolta in uno scialle, come una povera reietta. Del resto, in tutti quegli anni otto, Danunzio l'ha duramente lavorata al corpo. In cerca di un teatro d'arte e di parola, Eleonora lo spinge a scrivere e il primo testo è La città morta. Però, mentre lei è in America ad accantonare i fondi necessari, lui cosa fa? Lui affida la pièce a Sara Bernard, che ritiene più celebre e dunque più adatta alle sue ambizioni. Per i lunghi anni del loro tormentato rapporto, la duse continua a recitare e a indebitarsi. E Danunzio a scrivere e a spendere i suoi soldi e a insidiare ogni donna che gli capita a tiro, compresa una giovane che Eleonora protegge, Giulietta Gordiani. Eppure Eleonora sopporta, spenta, ingrigita, segnata, la duse non è capace di rinunciare al suo poeta. Anche negli anni più felici del loro amore, la duse e Danunzio non vivono assieme, però scelgono due case vicine, in Toscana. Per lui la famosa Capponcina, una santuosa dimora che era stata dalla famiglia Capponi, dove Gabriele conduce una vita da dendi, fra cavalli, levrieri e belle donne. Per lei una casa più modesta, che ha un nome di ispirazione francescana, la porziuncula. Fra i due non mancano certo i momenti felici, però il successo teatrale che insieme hanno sognato non sempre li accompagna. La Francesca da Rimini è accolta assai bene, però quando Eleonora presenta a Parigi Sogno di un mattino di primavera, la critica stronca l'opera come noiosa e infantile e Danunzio se la prende con lei, sostenendo che se a interpretarla fosse stata la grande Sara, il successo sarebbe giunto di certo. Nel 1903, quando Laduse rientra da una lunga tournée negli Stati Uniti, Gabriele è ormai apertamente innamorato di una nobildonna romana, giovane e vedova, Alessandra di Rudini. Ed è uno dei molti rospi che Laduse è costretta a ingoiare. Del resto, due anni prima, il grande poeta ha dato alle stampe un romanzo che si intitola Il Fuoco, che è chiaramente ispirato al suo rapporto con l'attrice. Un romanzo ricco di particolari piccanti e in cui la protagonista, che si chiama Foscarina, deve cedere il passo alla più giovane rivale. Per quel romanzo Danunzio viene accusato da molti di slealtà, però questo non lo tocca neanche un po'. Chi paga di più il prezzo più alto è Eleonora, che è una donna e che vede andare in frantumi la propria reputazione. Travolta dallo scandalo, va a Berlino dalla figlia Enrichetta e per giustificarsi le dice «Io ho due braccia, una si chiama Enrichetta e l'altro Gabriele, non posso tagliarne uno senza morire». Segnata da un amore che ha ormai un che di masochista e di distruttivo, Eleonora continua con testardaggine a recitare i testi del suo Gabriele, rischiando così di affossare la propria carriera. La Gioconda, la Gloria, sono tutti veleno al botteghino e quando Gabriele scrive la figlia di Iorio, Eleonora si convince finalmente però di avere per le mani il testo tanto atteso. Disgraziatamente, mentre si sta allestendo lo spettacolo, la Duse cade ammalata ed Anunzio non ci pensa due volte ad affidare la parte della protagonista alla più giovane Irma Grammatica. È una decisione questa che sigilla la fine della loro storia. Una storia dalla quale Eleonora esce letteralmente a pezzi. Eppure è sbagliato immaginare la Duse totalmente soggiogata da Danunzio, perché in teatro la Duse è stata la maestra e Danunzio l'allievo. Certo, un allievo traditore, però pur sempre soggiogato dalla cume, dalla modernità e dalla lucidità con cui la Duse faceva teatro. Dopo la rottura, Eleonora affronta Ibsen, da casa di Bambola a Spettri, è la sua grande rivincita, perché il successo arriva di nuovo ed è clamoroso. Ma la sua tempra, che è una tempra da sempre piuttosto fragile, è segnata. Nel 1909, soltanto a 51 anni, la Duse si ritira dalle scene. Ha voglia di riposo, però non si ferma, perché durante la guerra si occupa dei feriti al fronte, fonda degli ostelli per le attrici, ragiona da intellettuale quale davvero è sul cinema e nel 1916 interpreta l'unico film della sua carriera, Cenere, che è tratto dall'omonimo romanzo di Grazia De Ledda. Un film molto moderno e forse anche per questo male accolto dal pubblico, abituato allo stile magniloquente degli attori del muto. Pure, quando Eleonora Duse muore nel 1924, durante una tournée americana affrontata per rimpinguare le sue magre finanze corrose dall'inflazione, il mondo intero si ferma. La Duse non c'è più. Non c'è più l'attrice che con la sua modernità ha ridisegnato lo stile dell'interpretazione teatrale di qua e di là dall'oceano. Non c'è più quella donna che ha scelto, sono parole sue, di vivere sola in randagia libertà. E per chi voglia sapere la storia di un'altra scandalosa, l'appuntamento è domani su Radio 2 alle 8 della sera. Alle 8 della sera Le scandalose di Patrizia Carrano Regia di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it Per riascoltarci www.radio2.rai.it 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 Grazie.